Simone Parodi, ancora una volta entri in campo a gara iniziata, ancora una volta grande protagonista? Ah sì, guarda, sono contento per me stesso e per la squadra, perché comunque siamo riusciti a giocare molto bene, secondo me dopo alcune difficoltà, quindi sono davvero contento della lezione che abbiamo avuto. Con la tira avevamo detto una grande prova anche al servizio, oggi una grande prova anche a muro, oltre che in attacco. Ma sì, secondo me sia al servizio che a muro siamo andati bene, ci stiamo allenando secondo me bene, quindi i frutti si vedono un po' in partita. Vediamo però anche un aspetto negativo, Piacenza inizia a giocare sempre troppo tardi. Ma guarda, poi l'importante è vincere, non so, adesso in questo periodo ci capita così, però è meglio partire male e poi vincere che partire bene e poi magari perdere, quindi ci lavoreremo su. Grazie. 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 Grazie.